Sono le incompiute di questa amministrazione che sbandiera lavori di qua e di là soprattutto nella periferia che dicono loro che la stanno riqualificando, iniziano i lavori e poi in realtà non li finiscono. Questo è un danno doppio alla città perché si illude il cittadino che probabilmente in periferia si inizia a fare qualcosa ma poi non si fa nulla. È emblematico per tutti la rotatoria tanto sbandierata da questa amministrazione di Via Colli Innamorati, Angolo, Via di Sotto che era stata ovviamente spinta da noi gruppi di opposizione dopo la grande manifestazione che feci io per quanto riguarda l'ultimo investimento su Via di Sotto. Bene, hanno messo i birilli, sono fermi lì ormai da settimane, nessuno lavora in quel cantiere creando soltanto disturbo ulteriore, disturbo a chi transita su quella strada. I cittadini sono inviperiti, siccome in quella zona abitano molti professionisti so di denunce fatte anche alla procura. Per cui questo è l'ennesimo schiaffo di questa amministrazione, è una città che era splendida, questo sì, e che adesso invece non si riconosce più.